Vediamo quanti soldi, oh? Credo che ne ho 400 Eh già! Ho tantissimo! 13.000! 13.000! Pure tu! Io ho preso 52.000! 52.000! Eh si perchè io ho vinto l'ultima gara, capito? Eh... Io mi accontento di 409.000! Mi accontento... Vabbè... Vediamo cosa sta! Però io in totale manco 3.000.000! Allora noi andiamo a vedere le motociclette! Allora... Secondo te qual è la moto? Ah non c'è mai più! C'è la moto! Aspetta... Guarda qui cosa sta! Una moto per il club! Guarda! Ma ne vediamo? Quale moto da cross? Quale moto da cross? Che serve? Quale moto da cross? No! Patriot! No! Nel appartamento l'ho messa! Mi porti lontano che lupo quando arriva! Mi porti! Mi porti! Ti porto lontanissimo! Sì più lontano che puoi perchè non arrivo ok? Ok! Va bene! Vado dritto? No! Dove vuoi tu? Vado nel... Vado nel tuo appartamento se vuoi! No! Vai nella clubhouse! Dopo io chiamerò la moto! Eh... La clubhouse! Eh... Mettimi il punto della tua clubhouse! Ok! Il punto della clubhouse! Ok! Te lo metto io! Ti ho messo! Ok! Vai! Ok! In questa è facilissimo arrivarci! Però io non preferisco questa come me! Io preferisco la Stromberg! Vabbè se vogliamo ci possiamo prendere anche questa! Se vogliamo! Però la Stromberg che salta solo non vuole! Eh lo so! Però credo che sia utile! E dopo dobbiamo comprare il centro operativo mobile! Per modificarla! Quello io l'ho modificata nella Avenger per esempio! Nella Avenger! L'hai modificata la DELAXO! Ah! Quindi possiamo prendere sia la Avenger che la DELAXO! Eh... Ma... Non so se costa di meno la Avenger o c'è il centro operativo mobile! Io ho preso prima la Avenger perché mi serviva prima quello però! Tu cerca! Fa un po' mi vicenziano dalla Clubhouse! Lo sai! E sono quasi vicenziato! Non so perché! Sei arrivato? Vado! E dov'è la tua? Vediamo! Mi ha mandato al deposito! Ho preso la mia moto vedi! La Sanchez è arrivata! Allora vuoi vederla come l'ho fatta? Svegliamola! Vedi? L'ho fatta così! Con numero 18! Tu che numero hai? 43! Io ho 43! Io ho 18! Vedi? Questa può servire! Vuoi andare a fare una gara bella? Vuoi andare a fare una gara bella? Come con le moto con! Aspetta! Vado a metterla prima senza direzionare la gara! Ah va bene! La metti prima dentro e poi esci! Va bene con la mia! Se vuoi puoi andare dove pure tu! No! Non ti preoccupare! Va bene! Allora tu mi aspetti fuori! Sì! Io comunque 400.000! 400.000! 400.000! 2.000! Sì! 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 Io faccio l'impennata! Eh no! Mi ha detto se vogliamo fare una gara bella! Vuoi vedere che ti batto? Sì! Ciao! Ciao mamma! Sì! Sì! Ciao ciao ciao! Ciao 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 ciao! Dove finisce l'arrivo? Vieni qua! Aspetta! Arrivo! Ah! questa guarda qui cosa sta dopo una russo c'è un casino ok ragazzi io metto qui io ho messo che che cosa facciamo una rampa allora questo è il primo test va bene come c'è a salire da sopra prima ci sei riuscito da davanti prima ci sei riuscito è vero davanti davanti un'altra cosa è già una specie di pista per motocross Vabbè, senza salire sopra Tieni Ti faccio vedere molto velocemente una cosa Oh, è proprio bella questa pista per molto, è vero Oh, che rampa Qui è proprio bello Sto andando velocissimo Che bella rampa Alla che io ti sto dietro alle cartagne RANFA È bello sto cibuto, è vero Ma è ancora un giro Che volo ho fatto Da moto Da moto Ah, sei tornato in all'inizio, no Allora, dai qua, ok, taglio tutto Poi non so nemmeno la strada che sto qui Eccoti Un circuito adatto da cross Allora qui ci dobbiamo andare per allenarci Oh Una macchina per le montagne Uh Sì, per provare lo rimetto Eh, però questa sembra proprio adatta per il moto da cross Esatto è ricaduto mi ero girato un attimo e mi sono distratto io ti sto molto pieni di patina deve essere forse più facile ciao è veloce perché sta arrivando uno che l'elicottero ok ora ci penso io abbiamo qualche bomba abbiamo il lanciamissimo vieni vieni ho paura ho paura del lanciamissimo ho paura che lo uccido io allora vai io vedi i club ciao sto uscendo ciao ciao ciao